Ulteriore brillante risultato della ex provincia regionale di Siracusa pronta ad appaltare lavori per 500.000 euro. Ulteriore brillante risultato conseguito dall'ex provincia regionale di Siracusa che dimostra ancora una volta di essere vivace, affidabile e pronta ad appaltare lavori per 500.000 euro. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, questa volta sono state pubblicate due determine a contrarre di 250.000 euro per l'affidamento con procedura negoziata delle seguenti strade. Strada Provinciale 25, Florida Priolo, Strada Provinciale 76, Dino Monteclimiti, Saiazza, Strada Provinciale 65, Marcellino Agliastro, Molinello Brucoli, Strada Provinciale 106, Palmieri, San Pieri. Per appaltare lavori si provvederà con procedura negoziata previa a consultazione di 5 ditte tramite sorteggio tra quelle registrate nella piattaforma SITAS così come da leggi vigenti. I comuni interessati saranno Augusta, Priolo, Floridi e Solarino. Nonostante le difficoltà che l'ex provincia di Siracusa vive a causa del disinteresse generale, dimostra ancora una volta di avere competenze e capacità veramente ammirevoli. Non possiamo di conseguenza non essere grati al commissario, al dirigente del settore e a tutti i tecnici che, a concluso Vinciullo, si spendono quotidianamente per assicurare maggiori margini di sicurezza alle strade provinciali. Grazie.